Nella chiesa di Sant'Erasmo di Castel Sant'Elmo a Napoli si è tenuta la manifestazione conclusiva della 26esima edizione del premio letterario internazionale Emily Dickinson, organizzato dall'associazione fondata e presieduta dalla scrittrice, docente e giornalista Carmela Politi Cenere. Il premio è molto seguito, vengono persone da varie parti d'Italia e insomma ognuno credo che una volta ricevuto il premio Emily Dickinson vada via soddisfatto col sorriso sulle labbra. Quindi direi che questo è un premio che regala un sorriso, un sogno perché credo che il sorriso sia la cosa più importante che noi possiamo regalare agli altri. La commissione esaminatrice ha giudicato tante opere di letterati provenienti da tutta Italia e dall'estero e inoltre è stato istituito un riconoscimento nella sezione speciale a personalità del mondo della cultura e del giornalismo che si sono distinte per meriti ed elevate doti umane. Questo premio è andato allo scrittore Maurizio De Giovanni e a Marco Altore, giornalista di Teleischia, collaboratore del Roma e assistente di cattedra alla Facoltà di Scienze e della Comunicazione del Surorsona Benincasa. Ricevo il premio Emily Dickinson della ventisesima edizione nella sezione speciale. Io ringrazio la professoressa Politi Cenere per aver pensato a me un modo per valorizzare il lavoro che quotidianamente svolgo sul territorio come giornalista, uno sprone a fare sempre di meglio il mio lavoro per una corretta informazione. Alla manifestazione è partecipato anche la presidente della quinta municipalità Clementina Cozzolino. Su questa municipalità ci sono state molte edizioni negli anni passati, poi a causa Covid si era interrotto un po' tutto. Finalmente siamo qua e grazie all'energia, alla determinazione della professoressa Carmela Politi Cenere, oggi siamo qua per premiare. Io sono contenta in particolar modo per le premiazioni che andiamo a fare del giornalista Marco Altore, che stimo tantissimo, che è una persona con cui abbiamo fatto un percorso, possiamo dire, da punti di vista di diverso istituzionale e lavorativo, e dello scrittore Maurizio De Giovanni. Quindi sono veramente contenta di stare qua come presidente di municipalità e presenziare a questa premiazione.